Cari amici, cari amici, tanti saluti, lo vedete io sono Gianfranco Fini, Gianfranco Fini, sono il presidente della Camera dei Diputati e vedete qua, vedete qua, guardate che roba, voi ve la sognate stanotte questa qua, vabbè che è un pezzo che ve la sognate, è un pezzo, ed è quando si parla della casa mia a Monte Carlo, guardate che spettacolo qua, io mi stavo, sono Gianfranco Fini, oggi è sabato 7 agosto 2010, vedete che spettacolo, stanotte ve la sognate tutti cari ragazzi del web questa qua, guardate che spettacolo, guardate, guardate, oggi me l'hanno messa sul cuore della sera, me l'hanno messa, io che spettacolo, guardate che silhouette, guardate, io, io mi stavo a preparare a fare le vacanze più belle della vita mia, al cavaliere, io ho preparato il servizietto mio al cavaliere, capito, non c'era riescito nessuno a fargli il servizio che ho fatto io al cavaliere, l'ho messo in croce, l'ho messo, altro che Follini, altro che Pier Ferdinando Casini, ma io vengo dall'MSI, io vengo dall'MSI, avete visto come mi sono alzato un piedi là, quando c'è stata quella famosa riunione che mi sono alzato un piedi e io ho detto minaccioso, ma che mi vuoi cacciare? Ma che mi vuoi cacciare? E io vengo dall'MSI, dall'MSI di Giorgio Almirante, io quando ero piccolino mi sono letto il libro di Giorgio Almirante, Memorie di un fucilatore, ero piccolo, avevo i calzoncini corti, ancora 10, cito nel 74, 84, 94, 04, 36 anni fa, che potevo essere io, che anni ce potevo avere io, 36 anni fa, ero un ragazzino ancora, ricordo che Memorie di un fucilatore lo vendevano pure nelle piccole giornali, non solo nelle librerie, lo vendevano dappertutto, in Italia, noi dall'MSI, tutti a legge Memorie di un fucilatore, e ma a me, io non sono mica Follini e non sono mica, scusatemi, quel tipo di Pier Ferdinando Casini, capirà, Pier Ferdinando, sempre che ci abbia il sangue blu dentro le vene sua, e io gli avevo preparato il servizio mio al cavaliere, al cavaliere, a me non mi va di stare sotto a nessuno, non mi va di stare sotto a nessuno, a me piace, mi piace ricomandare, mi piace, e parliamo se è chiaro, sì sì, mi sono convertito un po' a democrazia, ma mi piace sempre ricomandare, io non voglio essere il numero due di nessuno, da nessuna parte, cofondatore? Ma cofondatore? Ma quale cofondatore? Io voglio essere il numero uno. Comunque, lo sapete che il servizio che gli stavo preparato? No, io ho preparato il cavaliere, che l'ho fatto diventare matto, l'ho fatto diventare cavaliere, e io mi stavo preparato a fare meglio vacanze della vita mia, Elisabetta si chiama, non mi riferisco, si chiama proprio Elisabetta Tuliani, a compagna mia. Vedete, vedete, Presidente della Camera dei Deputati, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo, quando ci vado in giro si girano tutti, si girano, è esattato che ve la sognate pure voi, stanotte la compagna mia. Che è successo però? Che io mi stavo preparato a fare meglio vacanze della vita mia, in assoluto, in assoluto, non l'avrei mai fatta delle vacanze così belle come quelle che mi stavo preparato a fare adesso, ma manco nei tempi di quando torna a sulta gli disse a cosa Giorgio Almirante, nomina lo tuo successore, mettegli la mano sulla spalla, nomina lo tuo successore, che tutti i giovani degosoli del movimento della fiamma tricolore si stavano tutti a mani al fegato dalla rabbia, che si facevano a me il leader del MSI e poi l'ho traghettato, se dice così, l'ho traghettato dentro i diti democratici del MSI, l'ho trasformato in ANE, ho dato fiuggi, ho rinnegato tutto e poi ho messo giù le ancore dentro al PDL, però non mi è mai andata giù, sta facendo il cofondatore, ma che brutta parola il cofondatore, è una specie di number two, number two, number one, number one, e allora ho cominciato a lavorarmelo ai fianchi il cavaliere, facevo finta di niente, facevo finta di volerli bene, però con la scusa che io so la terza carica istituzionale, e sto sopra il cavaliere perché la prima carica istituzionale è quella del Napolitano, l'uomo del Colle, l'inquirino del Colle, capito? La seconda carica istituzionale è quella del Presidente del Senato, Schifani, e io sono la terza carica istituzionale, io Presidente della Camera dei Deputati, al numero quattro ci viene il cavaliere, io ero cofondatore e terza carica istituzionale, ma vedete che potevo stare sotto, me lo lavoravo ai fianchi, capito? Me lo lavoravo ai fianchi, perché lui è anziano e c'è un'azienda poderosa, si credeva di essere più furbo di me il cavaliere, si credeva di essere più furbo di me, ma io mi ho fatto vedere in tv che ho fatto, che mi sono alzato un piede, mi sono alzato un piede minaccioso, io ho detto, ma che me vuoi cacciare? Ma che me vuoi cacciare? Non sono mica fallini, non sono mica Pier Ferdinando Casini, che si sono fatti cacciare via? Però che succede? Nel più bello che io stavo a saporare tutto il trionfo mio, lo stavo a saporare tutto, tutto lo stavo a saporare, tutto che il cavaliere, io ho fatto perdere la ragione al cavaliere, io ho i finiani, ho i finiani, futuro e libertà, futuro e libertà, capito? Futuro e libertà, sì, io gli volevo scrivere futuro e felicità, ma gli amici miei mi hanno detto no, fermate con futuro e libertà, che siamo sul vago, perché futuro e felicità è un po' troppo cogente, futuro e felicità, futuro e libertà, futuro, boh, non si sa niente, libertà, boh, boh, che della libertà, stiamo su futuro e libertà, stiamo per l'Italia, per l'Italia però, non per l'Europa, solo per gli italiani, che gli altri non esistono, esistiamo solo noi al mondo, capito? Futuro e libertà per l'Italia, e che succede? non si mette in modo quelli infamone dei Terminator, lo chiamano Terminator, noi nell'ambiente politici lo chiamiamo Terminator, Vittorio Fertri, quando si mette in modo Vittorio Fertri, quello che dirige il quotidiano, il giornale della famiglia, della famiglia Berlusconi, i palazzi della giustizia si mettono tutti a tremare, peggio del terremoto dell'Aquila, quando si mette in modo Terminator, Vittorio Fertri, e non ti va a tirare fuori la cosa lì, della casetta di Monte Carlo, della casetta di Monte Carlo, che è molto, e gli avevamo dato in affitto la cosa, al fratello di questa bella donna, che è la compagna mia, Elisabetta, guardatevelo un po', guardatevi, rifatevi l'occhio, rifatevi, rifatevi l'occhio voi gente del web, guardate qua che spettacolo che è, guardate qua, altro che Carlà Brunì all'Eliseo con Sarkozy, guardate che spettacolo, guardate qua. Te va a tirare fuori il Terminator, Vittorio Fertri, che Dio lo ma stramaledica, che mi sta dare dei fastidi già da diverso tempo, da quando io mi sono messo contro il Premier, mi sta dare tanti fastidi, ma finora i fastidi erano dei solledi, stavolta mi tira fuori la storia dell'appartamento di Monte Carlo, e io lo sapete che mi resto sempre del blu, mi resto sempre del blu, sapete no, ho il completo blu, mi sono messo in sintonia col popolo blu, che è il popolo del web, io devo pensare al futuro, devo pensare al futuro, qua ci si deve mettere in sintonia con i tempi che cambiano, oggi il mondo è il mondo in mano a quelli dei internet, al popolo blu, mi sto sempre con il vestito blu, e una certa contessa, prima dei morì, non tanti anni fa, ha lasciato un appartamentino a Monte Carlo, nel cuore di Monte Carlo, un appartamentino a AN, quando io ero segretario di AN, quindi io sono responsabile di tutto AN, dicono gli infamoni che io sono responsabile di tutto quello che accade dentro Fininvest, pure se Fininvest è fatta da 100.000 aziende, però lui deve sapere tutto quello che succede dentro Fininvest, deve pagare lui se sbaglio, i direttori generali delle aziende sue, così gli infamoni, tanti colonnelli invidiosi, e dicono che io ero responsabile di tutto, perché ero segretario di AN, alleanza nazionale, dopo che oggi AN, e quindi se è stata venduta quella casa che la brava contessa ci aveva regalato a noi di AN, io dovevo sapere delle cose, perché se AN, di cui ero segretario nazionale, doveva vendere un appartamento a Monte Carlo, e i soldi dovevano entrare tutti dentro il partito, però questi infamoni sono andati a D, sono andati a D, sono andati a D, che io, che AN, insomma sono sempre io AN, ero sempre io AN, c'è un Franco Fini, capito? E mica posso far finta che non ero io il segretario nazionale della AN, non posso far finta, capito? E quando si vende un appartamento a Monte Carlo, il segretario nazionale qualcosina aveva, può sapere, vanno a dire che quell'appartamento, invece di andarlo a vendere da un notaio lì a Monte Carlo che è pieno di notai, dicono che siamo andati ad una, a vendola ad una società offshore nel mar dei Caraibi, nel mar dell'Antille, non mi ricordo, e l'avevamo venduto a una società, una società che è nata uno o due mesi prima che noi lo vendissimo un appartamento, chi sa perché la società offshore dei Caraibi dell'Antille è nata due, tre, quattro mesi prima che noi lo vendissimo un appartamento, per cui quelli che mi votano, quelli che mi votano, quelli che mi hanno visto come il bastione della giustizia, il bastione, il bastione della giustizia in Italia e si stanno a chiedere perché noi di AN, l'appartamentino a Monte Carlo, invece di venderlo a un notaio tramite un notaio di Monte Carlo, tramite un notaio di Monte Carlo, l'avevamo dovuto vendere tramite una società offshore dei Caraibi o dell'Antille, non mi ricordo, e poi vanno pure a dire, vanno a sospettare, sempre il Terminator, il Terminator, il Terminator, il Terminator, il Vittorio Feltri del giornale, vanno pure a insinuar, vanno pure a insinuar, a insinuar che io, cioè AN, io, 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 Giancarlo Fini, allora ero segretario generale di AN, io l'appartamento e l'ho venduto a una società offshore dei Caraibi o dell'Antille che avrebbe fatto finta a questa società di da mese solo 200 mila euro, 200 mila euro, il contratto ci sarebbe scritto così nel contratto, che noi di AN avevamo un camerato, 200 mila euro, però siccome l'appartamento di Monte Carlo vale tanto, 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 tanto di più, pure si dicono che male è andato, eh, male è andato, male è andato, ma è sempre il cuore di Monte Carlo, a Monte Carlo le case valgono quanto oro, tanto pesano e tanto oro valgono, valgono a Monte Carlo, perché a Monte Carlo ci puoi andare pure per fare delle tasse, capito? Ci puoi fare tante cose a Monte Carlo, pure se l'appartamento è ridotto male, se va bene lo rimetti a posto, ma è tutto oro quello, è altro che mattone, è oro, è oro, oro vero, oro 24 carati su 24 carati, capito? Loro dicono che noi l'avemmo fatto finta, noi di AN, io il segretario nazionale di AN, avemmo fatto finta di un camerato, due, trecento milioni di euro, due, trecento milioni di euro, però in effetti, questo era scritto nel contratto là di quella società offshore, però in effetti quella società offshore ci avrebbe dato, ci avrebbe dato quasi un milione di euro, un milione di euro, e la differenza, settecento milioni di euro e qualcuno di noi sarebbe intascata, dicono così, di cattivoni, dicono così, poi la società offshore l'avrebbe venduto, l'appartamento a sua volta l'avrebbe venduto, l'avrebbe preso parecchio di più di un milione di euro, insomma ci avremmo guadagnato tutti, avemmo fatto un giro, capito? Avemmo fatto un giretto, pure per uno che si veste del blu, si veste del blu e che fa bella figura col popolo blu, non so cose belle queste, perché il popolo blu si può chiedere, ma com'è che tu, Gianfranco Fini, tu, AN, chi cavolo vuoi tu, AN, eri segretario generale nazionale di AN, insomma dai, lo sai no? C'è l'immedesimazione organica, il diritto pubblico si parla di immedesimazione organica tra il capo e il suo ufficio, proprio così, immedesimazione organica, questo è diritto pubblico, è diritto pubblico, io sono la terza carica dallo Stato, lo conosco bene il diritto pubblico, e vanno a dire che il popolo blu potrebbe pensarti, vabbè, c'è stato il terminator qua, chiamamolo come pare, ma questi possono pensare male quelli dell'internet, al popolo blu, che oggi il popolo blu deve far bello il cattivo tempo, perché ci sono in Italia sui 25 milioni di personal computer e dietro ci stanno 15-20 milioni di giovani, e sono questi che fanno la differenza, io mi ero vestito tutte blu, per piacere al popolo blu, ma questi si sono messi a sospettare, a dire, ma come tu, tu che bisogno ci avevi, tu Gianfranco Fini, o tu AN che non cambia niente, non cambia di andarti da un ballo nella società offshore, ma insomma, quando un italiano che tu li difendi tanto gli italiani, l'italianità degli italiani, va a comprare un appartamento, lo va a vendere, ma mica va a fondare o mica si rivolge alla società offshore, e sennò tutti gli italiani sarebbero già falliti se tutti facessero come avete fatto voi di AN, di cui tu eri il segretario nazionale, capitò? Non so se vi spiego, ci stanno gli inodai in Italia, ci sono gli inodai pure a Montegarro, ma perché? Potrebbe dire il popolo blu, potrebbe, potrebbe dire il popolo blu, potrebbe dire perché ai 7-6 rivolto a una società offshore, il popolo blu potrebbe dire qua gatta ci cova, e io le vacanze pensavo di farle felici, pensavo di fare le vacanze più felici della vita mia, con la compagna mia, che ve la devo far vedere, guardate che spettacolo, sono pochi i politici che hanno una compagna come questa, guardate che roba, che spettacolo cari ragazzi, come me l'hanno fotografata bene qui a sera, e capito? Dice, ma il popolo blu, io ci tengo tanto al popolo blu, sapete che ho aperto pure il sito, il sito della gamma dei deputati che l'ho presentato io, e l'ho presentato io il sito della gamma dei deputati, sono stato io che mi sono lanciato sul popolo blu, il popolo blu che sta sempre lì appiccicato al computer che segue tutte le vicende politiche senza spendere una lira perché sul personal computer oggi i giornali te li puoi leggere senza andare a coppare, stanno sempre lì a seguire le vicende politiche, e questi si chiedono, ma perché tu, 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 tu Giancarlo Fini, segretario nazionale di AN, quindi responsabile di AN, per vendere l'appartamento di Monte Carlo che ti aveva regalato la contessina, te l'aveva regalato l'appartamento, l'aveva regalato AN? l'aveva regalato AN, o a te o AN, ma la stessa cosa in medesimazione organica. perché avete dovuto tirare in ballo una società offshore dei Caraibi? ma manco, ma manco, una società magari dell'Ikterstein, ma no, a Valduz, a Valduz, a Valduz, a Valduz, a Valduz, ma no, addirittura a Nicaribi, ma non c'erano notai, non ci sono notai a Monte Carlo? eh, non ci sono notai in Italia? Eh, ma se io fossi un notaio italiano farei una protesta, se io fossi l'associazione dei notai farei una protesta con quelli che vanno a fare queste cose di compra e vendita nelle società offshore, addirittura laggiù nei Caraibi o nel Mar delle Antille. Andiamo, e resta il sospetto, e questo mi ha rovinato le vacanze Vittorio Feltri, che Dio lo stramaladica, fanno bene dentro i palazzi del potere a chiamarlo il terminator. Dio quanti ne ha terminati di noi, Vittorio Feltri, questo mi ha messo un croce, ma non riesco più a dormire, e anche se c'è questa bella donna qua al fianco a me, anche se c'è questa bella donna, io non riesco più a dormire. Quindi tra l'altro, guarda caso, guarda caso, c'è il fratello di questa bella donna che è la compagna mia, disabita, ma guarda caso tutte le casualità. C'è il fratello di questa bella ragazza, capito? Che è la compagna mia, c'è il fratello di questa bella ragazza in affitto nell'appartamento di Monte Carlo, quell'appartamento che ad AN regalò la Contesina, una Contesina tal dei tali tanto brava, che poi AN, di cui io ero segretario nazionale, vendette tramite una società offshore, c'è scritto per 200-300 milioni di euro, però mi pare, mi pare che la società offshore, mi pare, non sto sicuro, ci ha dato circa un milione di euro, e la differenza, cioè 700 milioni di euro, sono andati dove dove non andà, dove dove non andà, capito? E poi la società che l'ha comprato e che ci ha pagato bene, l'ha rivenduto su affari suoi, quando ha preso la società offshore, il fatto sta, che adesso è proprietario di quella società offshore, l'ha rivenduto, non si sa come, ma adesso c'è il fratello della compagna mia, ma pensa tu quante casualità ti va a scoprire questo terminator di Vittorio Felti, una casualità che io, Gianfranco Fini, segretario nazionale all'ora di AN, dove ho venduto, o avevo venduto l'appartamento di Monte Carlo tramite una società offshore, una casualità, che al popolo blu di certo non gli piace, seconda casualità, dentro questo appartamento poi ci capita, è il fratello della compagna mia, ma soltanto quale casualità è il popolo blu qua, qua io gli devo dimostrare al popolo blu che c'è la coscienza fosso, e io lo devo dimostrare a quest'estate qua, io devo dimostrare per quale motivo noi di AN, di cui io ero il segretario nazionale, ci siamo rivolti a una società offshore, ma perché? perché ci siamo rivolti a una società offshore, io ancora me lo sto a chiedere, io Gianfranco anche io, ma perché l'abbiamo fatto? potevamo rivolgersi a un notario di Monte Carlo, non a un notario italiano, ma perché ci siamo andati a rivolgere a una società offshore tra delle Antille, dei Carai, ma perché? poi, perché ci casca dentro questo appartamento con il fratello della compagna mia, ma perché? perché tutte queste casualità qua, il caso, il caso ha la necessità, ma perché? io il popolo blu non lo voglio perdere, capito? non lo voglio perdere il popolo blu, io sono sempre vestito di blu cari amici miei, non lo voglio perdere quest'estate in vacanza, voglio pensare come posso fare a recuperare il popolo blu, perché il popolo blu ha visto in me il baluardo della regalità tant'è vero che mi si stavano a corteggiare, pure Donino De Pietro mi si stava a corteggiare pure Bersani mi si stava a corteggiare, pure Coso mi si stava a corteggiare come si chiama il Pierferdinando Casini, sì, però adesso ci hanno dei problemi a continuare a corteggiare e io sono inquisito, c'è una società offshore, uno si pone il problema, eppure se non ci fosse rilevanza penale, eh ci sarebbe rilevanza politica, morale, etica, perché cosa siamo andati a fare noi di Alleanza Nazionale, di cui io ero segretario, cosa siamo andati a fare noi di Alleanza Nazionale a rivolgerci ad una società offshore dei lontani carabili, delle lontani antine, ma perché ci siamo andati perché? che Monte Carlo è pieno di notai l'Italia è piena di notai ma perché ci siamo andati laggiù? perché è questo che io gli devo da spiegare al popolo blu perché io sono sempre vestito di blu, è questo che gli devo da spiegare comunque voi rifatevi l'occhio intanto voi intanto voi, intanto che io vi do il saluto mio voi rifatevi l'occhio qua rifatevi l'occhio vedete che donna? se la sogna il cavaliere e chiedeva così la Taddario? ma chiedeva così la Taddario? ma non era così la Taddario c'ha sempre l'occhi tristi la Taddario guardate qua che roba, guardatela qua il fatto è che io ho perso il sonno perché io quest'estate devo pensare a come recuperare la fiducia del popolo blu è il popolo di quelli che è stato sempre dietro il personal computer, no? e io ci faccio ancora tanto affidamento spero che il popolo blu non mi giri le spalle dopo quello che ha detto quell'infamone determinator di Vittorio Feltri sul giornale e va bene vedremo, vedremo quest'estate preparo la strategia mia poi vedremo un settembre che succede e il cavaliere ha già la strategia sua l'ha già detta pubblicamente l'ha già detta che ci costringe a votare la fiducia e se gli mancano i voti si va a votare di nuovo e se si va a votare di nuovo io perdo la carica del Presidente della Camere dei Deputati non so più nessuno mi si girano le spalle pure di corolle mia pure quei pochi che mi hanno seguito che mi hanno detto che io sono il baluardo della legalità il baluardo della legalità off shore off shore il baluardo della legalità off shore eppure quelli mi si girano le spalle e se dov'è sono costretto a ingoiare il rospo gli devo votare la fiducia a cavaliere andaggia tutta colpa del terminator tutta colpa del terminator tutta colpa del terminator vittoriofetti che è andato a spunciare le carte d'A.N. quando io ero segretario nazionale di AN segretario che ero io che controllavo tutto, comunque per il diritto ero io, anche se non ho controllato ero io al capo immedesimazione organica immedesimazione organica va bene cari amici va bene, va bene, va bene cari amici, l'ho detto tutto io spiego solo che è il popolo blu non mi giri le spalle, va bene grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Gianfranco Vini